Disabilità e benessere, a cura di Emanuela Fatilli per la redazione di Senza Barcode. Consigli, strategie e piccole curiosità per rendere la vita dei nostri ragazzi super abile. Buonasera a tutti e bentornati a Disabilità e Benessere. Dopo la diagnosi, cosa succede? Ecco, questo è l'argomento che volevo affrontare con voi questa sera. Ho sempre detto come sia importante avere una diagnosi precoce e possibilmente precisa in modo di accostarsi a dei programmi di trattamento riabilitativi che agiscono in modo tempestivo, sia nelle fasi acute che nelle fasi degenerative o nelle fasi cognitive e comportamentali, insomma in tutti quegli ambienti dove è necessario avere una diagnosi per potersi muovere. Naturalmente sappiamo come la diagnosi, cioè il foglio della carta del medico dell'IMS è importante per poter accedere sia alle persone con disabilità che alle persone che assistono alle persone con disabilità ad accedere appunto alle varie opportunità istituzionali, quindi non solo alle pensioni integrative, alle invalidità civili, ma anche a tutti quei permessi che vengono dati per l'assistenza alle persone disabili. Molto spesso però la diagnosi non viene fatta per esempio prenatale, ma la diagnosi deve essere fatta su dei bambini molto piccoli o su dei bambini mediamente piccoli e abbiamo visto come questa cosa coinvolga in modo particolare i genitori, i giovani genitori che si trovano ad affrontare una cosa a cui non avevano mai e mai pensato e quindi abbiamo capito come l'aspetto così sociale e psicosociale che sta intorno ai genitori è fondamentale per riuscire ad avere un'armonia e per riuscire a accettare molto bene la diagnosi. Ora dopo la diagnosi appunto una volta che abbiamo a mano la diagnosi che cosa bisogna fare. Allora è importante sapere che esiste dei trattamenti medici che fanno riferimento a delle direttive medico-etiche. Cosa vuol dire? Che la Federazione Nazionale dei Medici, tutto nasce in Germania poi viene diffuso un po' ai medici in tutta Europa, decidono di scrivere queste direttive direttive medico-etiche proprio per l'assistenza, era nata inizialmente verso gli anziani e hanno esteso poi il concetto a tutte le persone con disabilità e a tutte le persone che assistono alle persone con disabilità. Cosa dicono queste direttive? Dicono che tutti i processi decisionali per quanto riguarda terapie, cure, tempi di somministrazione delle cure, inizio di cure farmacologiche o meno, tutto, tutto, deve essere sempre fatto tenendo conto delle situazioni specifiche del paziente e della persona che a lui afferisce. E tutte queste decisioni devono essere prese senza subire pressioni, cioè è importante per il medico trattante e per la persona che deve prendere la terapia e che non subisca pressioni dall'esterno. Mi viene subito in mente i social, cioè guardare troppo sui social che cosa si dice su quella cosa, qual è la cosa più importante o qual è la cosa che va di moda non va mai molto bene perché ogni persona è a sé, quindi le decisioni devono essere sempre prese partendo dalla situazione specifica di ogni paziente. Per cui quella terapia o quella situazione che può verificarsi con un ragazzino o con una persona che già da tanti anni in cura non è la stessa cosa, è una persona che inizia adesso ad andare in cura. che le direttive medico-etiche di cui parlavo devono sempre garantire la dignità della persona che è in sita nell'essere umano, quindi la dignità deve essere sempre mantenuta in qualunque ambito pensiamo, in qualunque ambito ci addentriamo. La dignità rimane al di là di ogni disabilità, abbiamo detto tantissime volte come oltre alla disabilità c'è anche la persona e che le direttive medico-etiche sottolineano l'importanza del fatto che le terapie e le cure devono tener conto dell'autonomia e dell'autodeterminazione della persona con disabilità. Cosa vuol dire? Che se io propongo una cura o una riabilitazione che in qualche modo va a ledere quella autonomia o autodeterminazione del paziente c'è qualcosa che non va, cioè tutte le cure devono essere date e fatte in condivisione naturalmente con il paziente o con chi gestisce il paziente, ma soprattutto non devono mai ledere l'autonomia e l'autodeterminazione della persona con disabilità. È importante sapere che in queste direttive è stato sancito che il principio di giustizia permette alle persone con disabilità la partecipazione alla vita sociale, cioè all'interno di queste direttive è stato chiaramente sottolineato come la persona disabile deve essere in qualche modo inclusa nella società. Quindi non è che la mia scuola è più brava perché me la include o quell'associazione più brava perché lo include è una direttiva medico-etica, cioè le persone che fa capo al principio di giustizia che dice proprio che le persone devono essere partecipanti alla vita sociale. E naturalmente un'altra cosa molto importante di queste direttive medico-etiche è che l'assistenza delle persone con disabilità deve sempre far vedere quanto influisce sulla qualità della vita delle persone e dei congiunti, cioè se una terapia va a scardinare nella tempistica, nelle modalità, tantissime altre cose, la vita della persona con disabilità e i congiunti non va bene. Quindi capite bene che le terapie e le cure vanno sempre gestite soprattutto in armonia con la famiglia, con chi gestisce la persona con disabilità e col disabile stesso assolutamente e che ci devono essere questi cardini essenziali. Io penso che una volta che il disabile e le persone che gestiscono le persone con disabilità si trovano a dover affrontare un percorso diagnostico post-diagnostico diciamo partendo da questi presupposti, capite bene che tutto viene affrontato con molta più leggerezza o meglio. Si capisce come il processo post-diagnosi debba essere sempre condiviso e permette di vivere una vita nuova diciamo con la nostra, con il nostro caro disabile. Ho voluto parlare di questo perché molto spesso mi rendo conto che la difficoltà per una famiglia che si trova a dover gestire un ragazzino, un bambino, un adolescente al quale viene fatta una diagnosi particolare, abbiamo parlato tantissime volte delle diagnosi più o meno difficili da digerire perché portano appunto vergogna, perché portano senso di colpa eccetera. È importante sapere quali sono poi le direttive verso queste persone che subiscono diciamo un trauma abbastanza importante nella propria vita. Vuole essere questo ragionamento e questa condivisione con voi delle direttive medico-etico un modo per, come sapete bene, cercare di vivere bene l'essere disabili o aver avuto una diagnosi non proprio felice della persona a voi cara. Con questo non voglio assolutamente dire che ci sono tutti i processi, ripeto, di frustrazione, di dolore e di fatica che stanno dietro una diagnosi. Preparatevi a magari avere il giudizio delle persone che vi stanno vicino, anche un giudizio feroce. Preparatevi un po' a tutto, ma è fondamentale sapere che il mondo medico ha sposato da diverso tempo questa possibilità, diciamo, questo impegno importante per far sì che i nostri ragazzi possano vivere una vita il più possibile equa. La tessera senza barcode significa consapevolezza di non essere tutti uguali, ma di avere tutti gli stessi diritti. Un giornale online per sapere, una web radio per parlare e un'associazione per promuovere il talento, per il diritto all'informazione e il diritto alla conoscenza. Così Sheila, il presidente di Senza Barcode, presenta la nuova tessera associativa per il 2020. Questa tessera garantisce la partecipazione gratuita a tutti i concorsi e uno sconto particolare nei corsi contributo organizzati da Academy e dal Lab Senza Barcode, un canale preferenziale nella nostra collana editoriale e la partecipazione gratuita alla rassegna letteraria 6 Senza Barcode per la presentazione di un libro su Roma. Ogni evento viene studiato nei minimi particolari per far risultare al meglio il libro e l'autore. Sono tante altre le attività ed è per questo che invito all'iscrizione visitando il sito www.associazione.senzabarcode.it. Io sono Emanuela, responsabile dei nuovi iscritti e della gestione dei concorsi. Puoi scrivermi a manu.senzabarcode.it o chiamami al numero 351-750-7873. Senza Barcode, per gente non omologabile. Go to fly! All'interno poi di queste direttive medico-etiche ci sono tanti altri punti molto interessanti che vanno un po' a addentrarsi in modo preciso su quello che effettivamente devono fare sia i sanitari che i medici in prima persona quando si accostano a persone con disabilità. Capite bene che oggi non posso affrontarli tutti in modo specifico ma mi piaceva condividere con voi quali sono le direttive in modo da non sentirvi oppressi perché può essere appunto che o sui social vi dicono che questa cosa non va assolutamente fatta invece poi magari per vostro figlio è proprio la cosa importante. Vi faccio un esempio che ricalca la mia esperienza personale perché sapete che io convivo da 17 anni con un ragazzo con autismo. Qual è stata fatta una diagnosi di autismo? C'erano tantissimi che mi dicevano no non fargli fare logopedia è sbagliatissimo invece per Giacomo era fondamentale fare logopedia non da subito ma è stato fondamentale cioè per lui che aveva proprio fatica anche alla lallazione imparare a mettere la bocca la lingua in un certo modo modo da pronunciare esattamente le parole era diventato fondamentale. Quindi può essere che all'interno di un processo di cura di trattamento di cura dell'autismo diciamo standard non sia contemplata la logopedia in modo esclusivo. Nel caso di Giacomo è servito fare un paio d'anni logopedia quasi esclusivamente proprio perché c'era questa necessità a un certo punto di obbligarlo passatemi il termine a comunicare e questo è stato io direi fondamentale per Giacomo. Per altri ragazzini con autismo può essere assolutamente inutile se non addirittura un danno perché tanti ragazzi che invece hanno voluto assolutamente far fare logopedia ci sono trasformati poi un po' dei pappagalli cioè i ragazzini che ripetevano e basta quello che gli veniva detto senza avere un supporto cognitivo a quello che dicevano. Quindi ecco il comitato è stato fatto proprio cioè queste direttive sono state date proprio per permettere una maggiore interazione tra quello che è previsto per la persona specificatamente per la persona e la famiglia. È sempre importante sempre ve l'ho sottolineato tantissime volte anche quando parlavo dei rapporti con la scuola che ci sia un ritorno cioè che la famiglia sia sempre informata di quello che succede e delle terapie che vengono proposte. Non per cominciare a viaggiare per 3.000 specialisti aspettando quello che ti dica che quello che vuoi sentirti dire perché non funziona così basta anche solo un medico che però con quel medico io possa avere un dialogo importante un dialogo che permetta di decidere insieme quale terapia fare appunto per non stravolgere la vita del ragazzo non stravolgere la nostra per permettergli di mantenere le proprie autonomie per permettergli di tenere l'umore alto per permettergli di avere comunque una buona autostima. Ecco quindi dopo la diagnosi è importante sapere quali sono questi passi da fare cioè cominciare a capire che tipo di terapia fare quali sono quelle importanti per il vostro caro indipendentemente da quello che fanno gli altri ma per il vostro caro e affidarsi e fidarsi dello specialista che avete scelto. Io spero di essere stata esaustiva se avete delle domande dei dubbi o qualunque cosa potete scrivere alla mia casella di posta manu chiocciola senza barcode punto it disabilità e benessere a cura di Emanuela Fatilli per la redazione di senza barcode consigli strategie e piccole curiosità per rendere la vita dei nostri ragazzi super abili.